no 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 ok ragazzi voglio far vedere questo gioco sono in compagnia di nakada tuciglia che vero il tuo nome grazie gelid crew ciao bello e dove sta di sabra l'incinto in mezzo dove cae non ti vi ah ecco con miss fortune vabbè chi è che sta caricando ragazzi dobbiamo scoprire il blu di eleni si ma basta ma perché e tu ce nemmo e tu ce nemmo e tu ce nemmo insieme ragazzi non avete comprato gli agenti iniziali no mo lo sto facendo vittor non puoi comprarli se non sei in base ok no io ho pensato che i punti e poi non li compro vabbè metti per te i video di qui ho a iniziali iniziali vai vai ehm forse è meglio che del gioco che del gioco non è una parte più ragazzi mi avete lasciato solo io sto andando per le cazzine Cioè già io vedo un 100, ma anche noi mi farà il mazzo. Ma dai che è passato, ma si può. No, no, ma si è passato. No, non mi farà, non mi farò il suo lavoro, deve stare indietro. Perché, come se io non si facciano, non mi farò il suo lavoro. No, non lo so, non mi farò il mio. Ah, non mi farò il mio, non mi farò il mio. Deve fare indietro. Sempre la scassa Italia, però direi via. Siamo assolutamente inoltre. Siamo assolutamente inoltre. Siamo assolutamente inoltre. ragazzi dovete stare attento con la torre dovete fargliela fare allora mica vede... ecco è fantastico nooo tu l'hai vista proprio con la torretta del cazzo ehm ragazzi il video non vuole partire dov'è comunque giochiare ma non dov'è specifico ma non vediamo ma non vediamo se l'ho fatto Io ti sento la luce di pesuta finito I taichu Di questo ci siamo andati tutti bata 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 b- Perchè del Saturday Sì o nassù Che successo? Rampage, shut down, quickly now! Ma cheee... Vittorio, rimai in sotto la cosa e uscivi i nostri chambi, ma non la mangiare! Nella faccia dei debiti in video! Occhio a Datis! Eh, quello ti ammazzo, scappa se ce la fai! Ma la seconda! C'è una magia a Datis! Stato, lo ti ammazzava a priori! Vieni dai dai! Gio, qua, sono qua! Ah, ciao! Dai 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 dai! Ci siamo per sbuoccare... Non in banco! 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 Vedete dove sto io? Stanno due Champions! Stanno... Eeeh... 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 Cunque c'è la mossa finale! Dimmi tu quando lo posso usarlo! Eeeh... 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 Questa è la pressione che... Però non c'è l'albocca, il minion è l'albocca Ma me li faccio tutti, perciò Ho capito, l'acqua è l'acqua è l'acqua Non so, non c'è, però a meno che qua state riscoltate Porta, vieni dove sto io, che stanno i minion a pressione Ho fatto un'acqua, ho fatto un'acqua, ho fatto un'acqua Ci sono proprio camminato per qua Sì, mossa finale, mossa finale L'ho più cattato Eh, massaro, scappa tu, ma c'è la marmana Vabbè, gli volevo fare la mossa finale La tua mossa finale è più utile che... Sì, infatti, l'ho buoccato e gli ho fatto pochissimo di danno Eh, ma tu lo potevi portare a pressi, capito qual'è l'utilità? Eh, no Aspetta, Demo, ho potuto capire una mano Gioci, ti posso chiedere una cosa? Mi conviene più potenziare la c***a W o la, eh? Eh... Dima, non usare questo personaggio Eh? Dima, usiamo il personaggio Dima, mi conviene più potenziare la c***a W o la, eh? La c***a Ah, ok, proprio quella che sta a zero a me, benissimo Eh, ma che c***o? E' per qui lui Dai, ma che c***o? Sì Mastro a scappa Eh, ma la fa malice Sì 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 Io sono iniziato Sì 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 Siamo tutti e due con pochissima haita Sì, ma io me la faccio io Ma già sta fatta E ci facciamo una barra Aspetta, va, va Sì, sì, sì No, 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 no Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, non è vero. Ok Ok Perchè 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 la luce sono in grado ma non ma non tre secondi prima avevamo fatto la mossa finale, stava bloccato, lo scattavamo in un secondo vai, 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 vai c'è e io ci siamo messi appena dormita niente ragazzi, andando a questa è peccato, perché? l'ho trovato?